Oggi presentiamo Citroen Oli, il nostro manifesto concettuale che incarna l'identità del brand Citroen, incarna la nostra filosofia, vale a dire prendersi cura delle persone e del pianeta che ci circonda. Una concept car che esprime come noi vogliamo soddisfare le esigenze di una mobilità sempre più sostenibile e quindi 100% elettrica ed è per questo che il concept Oli si basa su diversi asset tra cui un minor peso possibile in produzione e questo grazie anche a materiali reciclati e reciclabili. Citroen Oli ha una batteria di 40 kWh che appunto grazie al peso ridotto come accennavo prima ai materiali reciclati e reciclabili consuma solo 10 kWh ogni 100 chilometri fornendo quindi un'autonomia di 400 chilometri e noi riteniamo che oggi questo possa rispondere alla più parte di esigenze di mobilità delle persone.